Dicono da Futura Libertà che un governo Bersani-Vendola non durerà più di sei mesi. Ma il governo Vendola in Puglia è durato otto anni e ha avuto anche da parte delle forze di opposizione talvolta un atteggiamento di grande collaborazione. Penso che il mio è stato il governo più stabile e più dialogante di quelli che ci sono avuti in Italia negli ultimi anni.